Salve a tutti amici collezionisti e bentornati su Freddy's Tortin Store e benvenuti ai nuovi iscritti io sono Davide con me il mio piccolo assistente e oggi siamo qua per una nuova recensione finalmente tra le mani i nuovissimi Power Rangers targati Hasbro della serie Lightning Collection sono praticamente delle rivisitazioni da quelli già usciti anni fa che abbiamo tra l'altro già recensito anche sul canale quindi andiamo a vedere la novità, cosa hanno migliorato e cosa troviamo poi all'interno della scatola che troviamo tutta di cartone quindi non abbiamo più la finestra ma questo non è una questione di Power Rangers ormai la Hasbro le fa tutte così lo troviamo scritto proprio qui sotto con plastic free quindi ormai sappiamo che le scatole saranno tutte così allora qui troviamo l'immagine del Power Rangers, qui abbiamo l'immagine sempre del Blue Rangers però con questa colorazione che hanno usato per il trentesimo anniversario perché queste diciamo vanno a festeggiare il trentesimo anniversario e lo troviamo scritto anche qui poi sulla costina troviamo appunto il Power Rangers con in mano il Power Morpher e il simbolo dei Power Rangers dietro troviamo la nostra action figure con i suoi accessori e ancora l'immagine del Blue Rangers direi di non perdere altro tempo e andare subito a fare la recensione prima però vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto per non perdere i video futuri ma soprattutto per darci una mano a crescere so che in tanti guardano i nostri video ma non sono ancora iscritti quindi oltre al like per favore iscrivetevi e diventate sempre più numerosi così da far sapere a YouTube che il nostro canale piace e ci porta sempre in alto ok eccoci con il nostro action figure fuori dalla scatola diamo un'occhiata all'altezza e siamo a 16 cm ok allora diamo un'occhiata subito veloce all'action figure cominciamo dal volto troviamo subito la testa umana quindi senza casco già montata nell'action figure direi che è perfetta nessun difetto occhi ottimi painting perfetto qui nei capelli laterali abbiamo questo spazio che non è fatto a caso ma poi andremo a vedere il perché allora la testa possiamo muoverla girarla lateralmente può guardare in giù poco e in su anche poi apertura delle braccia ottima abbiamo il butterfly joint quindi possiamo muoverlo rotazione del bicipite possiamo ovviamente ruotare anche la spalla doppio snodo nel gomito e rotazione più snodo alla mano poi nel petto troviamo due snodi uno qui sotto la pancia e uno sul petto quindi possiamo andare avanti in questo modo e indietro così possiamo anche lateralmente muoverlo ruotare sia il petto ruotare anche il petto poi apertura delle gambe fino a qui rotazione della coscia possiamo andare in avanti la gamba in questo modo e indietro fino a qui allora la gamba possiamo muoverla molto bene in avanti perché abbiamo un giochetto qui nell'attaccatura della coscia che ci permette di spostarla su e giù di poco ma quel tanto che basta per mettere la posizione la gamma in questo modo come se volessimo metterlo seduto poi doppio snodo al cinocchio snodo alla caviglia su e giù e anche laterale abbiamo anche la rotazione qui dello stingo abbiamo la fondina della pistola in gomma morbida quindi ci permette tranquillamente di muovere le gambe e poi abbiamo il power morpher qui sulla cintura dove vediamo in piccolino infatti facciamo anche fatica il nostro triceratopo e questo è il nostro blue rangers allora cominciamo con gli accessori abbiamo due mani a pugno quindi chiuso sia destra che sinistra poi abbiamo una mano sinistra aperta poi abbiamo una mano in questa posizione adesso si vede pochissimo per via della luce ok abbiamo la mano in questa posizione che poi andiamo a vedere a cosa serve poi abbiamo gli occhiali ovviamente che vanno ad incrastrarsi perfettamente qui sui capelli quindi quindi finirà in questo modo poi abbiamo la prima pistola chiusa che poi sarà quella che va messa nella fondina la pistola chiusa con il coltello aperto poi abbiamo il power morpher piccolissimo questa è una chicca di queste nuovissime action figo bellissimo abbiamo anche gli effetti blu all'interno e per questo abbiamo la mano che serve apposta in questo modo poi abbiamo le due lance divise quindi troviamo anche la moneta dorata gomma morbida e poi abbiamo la lancia unita quindi l'unione delle due lance piccole diventa quella grande e poi ovviamente abbiamo il casco perfetto quindi senza nessun tipo di difetto che poi andremo a sostituire e poi infine novità di queste action figo sono questi effetti in gomma morbida mentre invece in quelle vecchie troviamo gli effetti delle armi in questa hanno messo proprio l'effetto scenico per il personaggio ok paragoniamolo sempre al blu rangers lightning collection targato ovviamente sempre Hasbro uscito anni fa quindi questa è la differenza che notiamo una volta esposti in marginale poi magari faremo un video di comparazione dove andremo a vedere le differenze più dettagliate comunque se vi siete persi il video dell'altro blu rangers ovviamente lo troverete nella playlist dedicata in fondo a questo video ok eccoci finalmente con le nostre valutazioni finali allora questo video sicuramente sarebbe dovuto arrivare prima perché comunque sono usciti ormai da un mesetto e mezzo però abbiamo avuto le alte priorità da portare sul canale quindi l'abbiamo un attimo rimandato comunque meglio tardi che mai eccoci qua allora le valutazioni sono positive e l'acquisto è assolutamente consigliato se siete fan dei Power Rangers non fatevi scappare queste remastered sono usciti il blu e il giallo che poi andremo a vedere anche il giallo prossimamente hanno annunciato ovvero sono in preordine il verde e il rosso e la rosa quindi ci aspettiamo un preordine da un momento all'altro del nero speriamo che arrivino in fretta ovviamente mi aspetto anche o meglio spero anche nel preordine del bianco così almeno abbiamo poi il quadro completo allora difetti non ce ne sono anzi io lo trovo perfetto davvero hanno fatto una remastered spettacolare perché hanno fatto quello che dovevano fare cioè se tu mi fai una remastered devi eliminare quantomeno tutti i difetti di quella originale aggiungendomi anche magari qualcosa ed è quello che hanno fatto adesso nello specifico non vi faccio vedere le differenze perché faremo un video apposta ma vi assicuro che hanno fatto un lavoro davvero ottimo come difetto se posso chiamarlo difetto hanno messo il Power Morpher quindi questo è davvero una chicca quindi bellissima però la mano che tiene il Power Morpher io l'avrei messa umana avrei aggiunto due mani umane al posto di quella con il guanto bianco perché? perché quando ti trasformi Power Rangers che hai in mano il Power Morpher ovviamente sei umano non dico di aggiungere un corpo umano però se tu mi avessi messo le due mani umane la mano specialmente quella che tiene il Power Morpher metti che io un domani volessi recuperare un corpo sempre asboro o comunque anche non asboro comunque in scala 1-12 umano metto la testa di Billy e ho la mano umana che tiene in mano il Power Morpher quindi questo non è un difetto magari era una mia precisazione ecco però tutto sommato è perfetto quindi acquistatelo assolutamente jason ti è piaciuto? si molto bello la cosa che ti è piaciuto di più? gli effetti ecco ecco bravo gli effetti io sono contro gli effetti come ben sapete però quelli delle armi in questo caso questi effetti mi sono piaciuti sono contento che li abbiano messi perché una volta esposto il personaggio con questi effetti che magari non c'entrano niente con i Power Rangers però danno quel tocco in più quindi brava asboro davvero perfette queste remastered sono consigliate bene detto questo io vi ringrazio come sempre di aver seguito vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto lasciateci un like e un commento se questo video vi è piaciuto e seguiteci anche sui nostri social noi vediamo l'appuntamento come sempre al prossimo video sempre qui sempre con me e sempre con grazie mille e ciao a tutti ciao